Chiamo sul palco Paolo Coppini per la premiazione. Quindi questo posto è tuo. In realtà è il decimo. In realtà è il decimo, l'undicesimo arriverà col premio. Puoi dire qualcosa adesso o dopo? Bellissima l'idea, mi ha colpito il vostro entusiasmo, l'idea che ha il fulcro, il Mediterraneo come diceva Aldo Rocch quando ha voluto commentare la nostra missione. Noi abbiamo portato un ulivo, si parlava di follia, Giovanni Ballarini parlava di follia, anche noi non eravamo alpinisti professionisti, ci siamo imbattuti in questo sogno, l'abbiamo portato a termine. Aldo Rocch ci ha detto, ma con il suo solito Aldo Rocch al venerdì mattina con Lino Sanicola su Radio DJ dice, con la sua enfasi caratteristica, dice ma voi, voi alpinisti provetti avete portato il Mediterraneo sull'Himalaya, avete portato l'ulivo in giro per il mondo. Ecco, quindi io auguro a voi le stesse soddisfazioni e la stessa follia che ci ha regalato la nostra missione e molto di più. Grazie. Allora, intanto che arriva l'undicesimo, se siete d'accordo leggo la motivazione del premio. Allora, Simone Perotti scrive, il Mediterraneo è qui, siamo noi, eppure sembra laggiù, un po' scostato, sempre qualche miglio più a sud o a est. Come fa un mondo, una cultura, un significato ad essere al tempo stesso qui e altrove? Forse il Mediterraneo è questo altrove, o almeno così lo percepiamo dalle sale e riunioni climatizzate, dalle case di cemento delle città, dalle stanze d'albergo in cui non si possono neppure aprire le finestre. Dunque, non è il Mediterraneo essere altrove, siamo noi che non siamo qui. Culla dell'olivo è il Mediterraneo. Il grande poeta senegalese Senghor sosteneva che l'olivo segna i confini culturali del Mediterraneo. I popoli del Mediterraneo hanno acquisito la civiltà anche grazie all'olio e all'olivo. A noi chiamiamo l'olivo con tutte le forze, ci arso il cuore in petto incontrando il sogno di Simone Perotti e dei ragazzi di Mediterranea. Con questo premio vogliamo riconoscere eccezionalmente non una persona, ma l'esperienza di un gruppo di uomini e donne che hanno dato vita, anzi hanno dato la vita ad un sogno. 29 paesi, 20.000 miglia, 3 continenti, 3 mari, 3 grandi religioni, un luogo straordinario in cui essere e diventare. Andare ed incontrare, condividere domande e cercare risposte. Oggi consegniamo l'olivo americo, una sorta di nume tutelare per la coppina artolearia, già di ritorno dalla cima dell'Everest, il luogo più alto e simbolicamente più vicino a Dio, raggiungibile dall'uomo sulle sue gambe. E dopo aver toccato i punti più disparati del globo sulle spalle dell'uomo con l'albero d'olivo, oggi lo consegniamo tra le mani dei ragazzi di Mediterranea, perché riteniamo che quella possa essere per lui una terra, un'isola navigante in cui crescere e divenire. Lo porteranno con loro per mare e per terra, incontrerà occhi, mani, sorrisi, popoli, storie, tradizioni, culture, simboli, incontrerà la sua storia, le sue origini, vedrà gli avi e saprà forse immaginare il futuro del nostro pianeta, che ha nel Mediterraneo un suo centro nevralgico. A lui affidiamo le nostre domande, i nostri sogni, con lui il nostro spirito parte verso una nuova era, dove non conta più la destinazione, ma conta il viaggio, il farlo insieme, credendoci, mettendoci la propria vita prima di tutto. Nel rispetto del coraggioso cambiamento di rotta, già voluto dai Mediterranei con il co-sailing, il nostro contributo non vuole essere una sponsorizzazione, ma un riconoscimento, la condivisione di un percorso, di una scelta, di una rivoluzione esistenziale. Con grande stima, la famiglia Coppini. Grazie, che bella motivazione, grazie, grazie. Io mi metto al centro così, me lo becco tutto. Esatto, alle donne, vai. Grazie, posso dire, si usa di dire due parole? Grazie. Che meraviglia, progetto Mediterraneo, c'è scritto sopra. Beh, è bello, io ho lavorato vent'anni in azienda, ho fatto il comunicatore per multinazionali, aziende italiane, eccetera, e ho visto tante volte inutili, stupide, costose iniziative di pubblica relazione fatte da aziende che non avevano anima e da comunicatori che non sapevano neppure far finta di produrla per i loro clienti o per le loro aziende. E ho visto tante volte soldi buttati, eventi inutili, in cui l'unico spreco davvero intollerabile era quello del tempo delle persone che erano presenti. E mi sono spesso battuto e lamentato di questo, poi alla fine visto che non si può andare troppo controcorrente, almeno se non si è dei veri provetti salmoni, cosa che io non ero, ho smesso di lavorare in quell'ambiente perché avevo troppo amor proprio, francamente, per continuare a fare delle cose che non hanno senso e che sono alcune delle motivazioni per cui questo mondo sta andando a catafascio. E io almeno non volevo essere correo. Quindi questa sera una cosa così sapida e così significativa, invece, ma lo dico, spero si capisca senza piageria perché c'è tutto quello che ci deve essere, il senso di un'azienda che produce una cosa bella, che non inquina, che fa bene, che è simbolo della cultura, un'attività di relazioni pubbliche, tra virgolette, come può essere un premio come questo che ha senso per un'azienda così. Passatemi anche dei premiati che hanno un senso per essere qua, questa me la dico da solo. È tutto molto bello, quasi così mi fate venire voglia di tornare a lavorare. Non c'era mai riuscito nessuno. Grazie davvero, grazie e complimenti a Coppini e a tutti voi. Grazie.